Grazie mille per questa opportunità. Oggi sono in una veste totalmente diversa da quella conosciuta sul mercato, nel senso che mi presento per la prima volta come partner di una delle più antiche società cestistiche milanese che quest'anno compie 70 anni e che si chiama Urania e che milita nel campionato di basket di Lega 2. Cosa c'entra questo discorso con Real Estate e con la premiazione? In realtà ci è piaciuto e ho accolto l'invito di Maurizio perché la correlazione tra le due cose è molto forte, nel senso che oggi noi ci impegniamo come imprenditori milanesi a partecipare all'interno della nostra città per ridare qualcosa alla nostra città, a lavorare su iniziative no profit. Non tratta che la squadra sia una squadra di professionisti e quindi con giocatori professionisti che giocano per vincere il campionato ma con una logica di imprenditori milanesi che vogliono ridare al sistema cittadino quello che la fortuna e il lavoro ci consente di avere. E quindi in questo noi ci vediamo una reale correlazione con quelle che sono le logiche ISG, con tutto quello che si racconta, quello che si racconta con le logiche di profitto, di fatturato, noi lo vediamo anche con le logiche legate alle aree, le zone che vengono vissute della città. In particolare la collaborazione in cui sono stati coinvolti anche altri player noti, quindi parlo del dottor Davide Lardera e la famiglia Lonati Scalo Milano, parlo di Ghewis, parlo della famiglia Paletti e ci vede protagonisti su due ambiti principali. Quello del sostegno alla povertà attraverso il lavoro con pane quotidiano con cui noi collaboriamo tantissimo e soprattutto quello che coinvolge la parte più in difficoltà in questo momento sociale, quella dei giovani e quindi attraverso borse di studio, borse di sport che vengono date ai ragazzi sia di famiglie normali sia meno fortunati appartenenti al CAF. Il Comune di Milano e la riqualificazione territoriale patrocinano questa cosa e noi vogliamo continuare a lavorare, invito tutti quelli che hanno questa opportunità di contribuire e sono onorato che la nostra squadra sia associata a questi volti e a Maurizio. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie mille. Dottoressa Della Posta, se vuole mettersi al centro, le riceverà? Il fotografo riceverà la maglietta come tutti i premiati della società firmata da tutti i giocatori. Questo premio riguarda le aspettative del 2022, quindi la responsabilità di aver dimostrato in passato la capacità di fare cose e ci si aspetta molto nel 2022, come ci si aspetta molto da questi ragazzi. Grazie. Anche questo, la gioventù serve anche nel mondo degli affari e quindi direi che si inserisce bene in questo contesto. per un 2022 pieno di risultati. Non c'è un ordine di importanza, ma è proprio un segno beneaugurante e di manifestazione di stima verso gli operatori e verso i ragazzi che si stanno impegnando e verso la società. Ancora in bocca al lupo per il 2022. Allora, congratulazioni anche a Riccardo Serrini per Prelios. Avete fatto tanto e ci aspettiamo che arrivino tanti successi anche nel nuovo anno. Grazie a voi e grazie ai ragazzi della società. Grazie a Silvia Rovere per Asso Immobiliare perché in questo periodo c'è tanto bisogno di associazioni, associazioni attive e affidabili. Ci auguriamo che anche questo 2022 ci sia uno sviluppo delle vostre attività. Eccolo qua, questo è un premio alla carriera, attenzione. Non vorrei fare l'imbonitore, ma Luigi Donato di Banca d'Italia. Tra poco si prenderà un po' di vacanza. Vacanze mai, è impossibile. Però volevo dire che non è stato carino un premio alla carriera di questi due ragazzi, uno più giovane e bello dell'altro. No, ma assolutamente è per segnare un nuovo inizio la parte sua. In bocca al lupo per tutto. E qui abbiamo anche un Emanuele Canigia, attenzione. Attenzione che vedo un giovane tra i giovani. Emanuele, prima SGR in Italia, quindi è una bella responsabilità, di cose ne fate tante e tanto ci aspettiamo per il 2022. Grazie a tutti. Grazie. Paolo Bottelli per Crialos SGR. Anche questo, avete realizzato tante iniziative lo scorso anno e sembra ci siano le premesse per un ottimo 2022. Il mercato se lo aspetta. Quindi grazie a voi, in bocca al lupo per il nuovo anno e grazie ai ragazzi e all'Urania. Grazie. Prego, se vuoi avvicinarti. Allora, questo in particolare merita una premessa perché io quando ho cominciato a fare questo lavoro c'era il signor Enzo Albanese che organizzava sempre eventi, apriva le porte a tutti. Cioè i punti di ritrovo erano sempre nelle sue aziende. Quindi adesso di strada, non dico neanche che ne ha fatta tanta, è sempre stato il punto di riferimento. E quindi è momento premio alla carriera 2, come per il dottor Donato in Banca d'Italia. Veramente il punto di riferimento per l'immobiliare milanese e non solo. Uno riporta il nome del dottor Schiavo, se è presente. E anche qui due parole aggiuntive perché oltre a aspettarci molto, ormai hanno fatto il pieno di fondi, quindi si sviluppano all'inverosimile. Ma serve ricordare che questo signore, lo chiamo, l'ho definito eroe normale, nella prima fase del Covid ha organizzato, è volontario della croce bianca, non dico altro, ha organizzato una raccolta fondi perché all'epoca non aveva neanche le mascherine, le persone che venivano a prenderci per mano. E quindi questa persona, zitto zitto, ha raccolto un'ambulanza, insomma tante cose che a quell'epoca, anche se sono passati due anni, sembra una vita, ma si è tirato sulle maniche. Quindi un premio che oltre a livello professionale riconosce l'importanza di tutte le attività sociali, come sta facendo Urania nel suo ambito. Grazie ancora. E poi qui leggo un Amitrano, qui si gioca facile però, è da un po' che si parla solo, da quando avete sponsorizzato l'albero di Natale di Milano, tutti. Mi dicono che Giuseppe Amitrano sia un ex giocatore di basket. Allora, qui si gioca facile perché oltre a Dils che ha preso grande spazio e sta dimostrando grandi potenzialità e risultati, questo sarà sicuramente il loro anno. Incrociamo le dita e serve un progetto forte per l'immobiliare. E quindi vi seguiamo sempre con grande interesse. Grazie mille, forza Urania. Un altro esempio ben augurante per il 2022 è Are Expo, dopo l'Expo Milano. Questo è un bel progetto di cui si parlerà nel pomeriggio, ma vogliamo dare un riconoscimento anche a chi ha contribuito a portare a termine questa iniziativa. L'area Are Expo che, caso positivo, non è rimasta un'area in una landa desolata, ma è tornata a ospitare progetti interessanti già oggi, non in futuro. Quindi, grazie, questo serve anche alla città. Grazie. Santino Taverna, presidente di FIMA, che non è presente, ma viene ritirato da Davide Bisi. Grazie mille. Grazie a voi. Questo perché le associazioni, soprattutto per quanto riguarda gli agenti immobiliari, mediatori, sono fondamentali per elevare il livello di conoscenza e di affidabilità degli operatori dai quali acquistiamo casa. Quindi, l'evento più importante per una fetta importante delle famiglie. Quindi, grazie per la vostra attività. Abbiamo FIAIP, Baccarini non c'è, ma viene ritirato per procura. Mi hanno detto che è in vacanza. Non è vero? No, assolutamente. Allora, grazie. Con le stesse motivazioni perché tutte le associazioni degli agenti immobiliari, dei mediatori, continuino a lavorare per migliorare questo tipo di attività tanto importante per le famiglie. Grazie. Grazie. Questo, ripeto, non è un premio, è qualcosa che ci sentiamo di fare come monitor immobiliare, come Re Italy, per contribuire in qualche modo a riconoscere agli operatori lo sforzo fatto finora e anche responsabilizzarli per il nuovo anno.